Domiziana Caudai è sparita a Roma e non si hanno notizie dalla mattina del lunedì 18 dicembre quando è stata avvistata per l'ultima volta intorno alle 10.45. I familiari sono preoccupati per la sua improvvisa assenza e non riuscendo a contattarla hanno segnalato la sua scomparsa alle autorità che hanno avviato le ricerche. Un appello è stato diffuso da parenti e amici tramite l'associazione Penelope ODV che si occupa di sostenere i familiari delle persone scomparse. Aiutateci a ritrovare Domiziana potrebbe essere in difficoltà dicono. Il timore è che possa esserle accaduto qualcosa di brutto dato che è quasi una settimana che manca da casa proprio ridosso del Natale. Domiziana ha 20 anni, alto 1 metro e 65 centimetri, a corporatura normale, capelli castani con mesh verdi. Come segno di riconoscimento ha un tatuaggio con il disegno di un triangolo rovesciato sulla spalla sinistra. Al momento della scomparsa, quando è stata vista l'ultima volta, indossava jeans chiari, larghi, felpa color blu con colletto rosa, scarpe da ginnastica di colore nero.